D1B che sta per giungere al termine, come vedete il dodicesimo livello l'ultimo di giornata 800-1600 il livello di bui con invece l'arte che si assesta a 200 chip 51.429 il livello del leverage stack quando 70 giocatori su 144 iniziali sono ancora impegnati in gara andiamo anche a dare uno sguardo alla sala, vedete l'ala di sinistra ancora piena mentre invece come vedete l'altra metà della sala è stata sgombrata dal 50% circa del field che ha abbandonato la gara tra le altre cose questo video verrà postato con il mio 8000esimo post quindi volevo festeggiare proprio con voi questo 8000 volte PIV che andrà appunto qui a Malta al Poker Live Adventure per quanto riguarda gli aggiornamenti video ci risentiamo nella giornata di domani in occasione del Day 2 mentre invece vi ricordo che potete seguire su pokeritaliaweb.org tutto quanto l'ultimo livello di gara di questo Day 1B ciao a tutti ciao a tutti